esiste un posto a milano che si chiama la casa degli artisti che tutti dovrebbero sostenere perché è un centro proprio dove è come un nido è un nido dove gli artisti possono andare e depositare la loro arte le loro uova quindi mi raccomando dateci una mano a sostenere questa casa degli artisti che corso garibaldi a milano un posto bellissimo fra l'altro una casa dell'inizio nel secolo scorso un modernista forse la prima casa veramente con questo concetto di arte moderna dobbiamo salvare l'arte vorrei segnalarvi questa iniziativa bellissima intorno alla casa degli artisti di milano se volete in questo periodo sicuramente non facile per per tante persone visto la crisi l'emergenza che tutti conosciamo se volete aiutarli e sostenerli potete andare sul sito della casa degli artisti o sull'instagram della casa degli artisti e fare delle donazioni anche piccole quello tutto conta tutto al suo peso e insieme sicuramente possiamo fare tanto la casa degli artisti di milano è un posto aperto è un posto aperto a tutti per poter creare quello che ha a che fare con se stessi ma che poi finirà per essere condiviso con tutti l'arte quella con la maiuscola e viva la casa degli artisti a milano sostenerla sostiene anche tu casa degli artisti perché è un luogo magico è un luogo dove l'arte prende forma e è un luogo veramente prezioso e tutti e tutte dobbiamo tutelarla so che c'è una campagna di crowdfunding spero di pronunciarlo bene per la casa degli artisti per cui chi più di me che appunto vi ha sempre parlato di lucro sta qui a dirvi che bisogna sostenerlo bisogna ogni tanto non solo pensare al proprio profitto personale ma cercare anche di sostenere delle realtà che arricchiscono il nostro animo e il nostro cuoricino quindi partecipate e sostenete la campagna di crowdfunding della casa degli artisti di milano in cui io ho realizzato il mio ultimo capolavoro un abbraccio da Dario Brunori, baci io penso che sia importante che i luoghi come la casa degli artisti appunto abbiano vita e la vita gliela diamo insieme e quindi credo che sia una causa da sostenere quella della casa degli artisti in generale quella degli artisti perché la cultura è un bene immateriale che non è niente di astratto è tutto quello che facciamo sostieni casa degli artisti perché gli artisti hanno bisogno di una casa e voi avete bisogno degli artisti anche se non lo sapete sostieni casa degli artisti perché l'arte e la bellezza sono fondamenta della nostra vita è perché questi due elementi di sicuro riusciranno a farci spiegare le vele in questa rinascita in questa nuova era così come è avvenuto in passato la bellezza ci condurrà in nuove dimensioni, in nuovi mondi quindi sostieni la casa degli artisti sostenete la casa degli artisti di Milano che tra l'altro è l'unica residenza pubblica d'arte in Italia dove nascono, nasceranno speriamo, nuovi artisti in differenti campi dell'arte a oggi casa degli artisti di Milano è l'unica residenza per artisti pubblica in Italia quindi non può chiudere la sua avventura sostenerla vuole dire vivere l'arte darle una dignità comune e riceverne una cura in cambio quindi abbiamo bisogno di voi per continuare a esistere viva casa degli artisti supportate casa degli artisti perché ci porta anni luce avanti perché ci mette al passo con l'arte vera che è condivisione punto sostieni la casa degli artisti e io mi impegno anch'io nel mio piccolo voglio sostenere la casa degli artisti come artista e come persona perché penso che sia un luogo fondamentale per la città di Milano per il territorio, per i suoi cittadini e per gli artisti che si possono incontrare e perché possono incontrare a loro volta i cittadini della città di Milano e non solo di Milano e insieme costruire un futuro magari anche migliore speriamo io sostengo la casa degli artisti penso che i presupposti sono ottimi e se diventa un successo diventa un grande regalo per la città se si chiude la casa degli artisti sarà una macchia alla città e un'tragedia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti